Autotrasporti Sandro Carrai a Portoferraio opera nel settore dei trasporti e distribuzione custodia merce con successiva consegna. Una piazza stracolma di gente, 3500 persone che ha cantato per tutto il concerto, già questo basta per descrivere il successo di Max Gazet a Marciana Marina. Da il timido ubriaco alla favola di Adamo e Eva, da vento d'estate a sotto casa fino alle ultime hit, la vita com'è e ti sembra normale. Un repertorio vasto e variegato, quello del cantautore romano che ancora una volta si conferma artista raffinato e mattatore allo stesso tempo. La particolarità di Max infatti è proprio questa, brani mai banali che diventano tormentoni già al primo ascolto. E così è stato, visto la piazza in visibilio per le sue ballate folk più famose con gente di tutte le età a ballare durante il concerto. Un successo scontato? Forse sì, ma complimenti a Marciana Marina perché quest'estate ha fatto Centro due volte. La prima con Cristina D'Avena e ieri sera con Max Gazet. La prima con Cristina D'Avena e ieri sera con Max Gazet. La prima con Cristina D'Avena e ieri SPOT L'ultimo azzardo me lo voglio giocare rischiando un istinto animale E si viene ancora dopo cena da me Grazie!